Si chiama Cheops, come il regizio che reste la celebre piramide a Ghiza e il suo compito sarà, da oggi a tre anni e mezzo, quello di studiare nel dettaglio piccoli pianeti lontani che orbitano intorno a stelle marri. Il satellite fa parte di un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea guidato dall'Università di Berna e ha un'anima italiana. Cheops ha iniziato il suo viaggio verso le 7.000 stelle che lo attendono dallo spazioporto di Curu, in Guiana Francese, a bordo di un razzo Soyuz che ha avuto il delicato compito di portare in orbita anche il primo satellite della seconda generazione della costellazione italiana di osservazione della Terra Cosmos SkyMed. Di Cheops, che rappresenta la prima tappa di un lungo viaggio che potrebbe portare a trovare tracce di vita extraterrestre, ne abbiamo parlato con i protagonisti, incontrati a un evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana. La missione Cheops è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea con un forte contributo italiano che si occuperà di osservare le stelle intorno alla quale sono state già scoperte dei pianeti. Quindi cercherà di caratterizzare meglio questi pianeti che sono già stati scoperti o da Terra o dallo spazio e cercherà di capire meglio le caratteristiche. Per esempio, potrà determinare la densità per i pianeti di cui già conosciamo in qualche modo la massa, Cheops riuscirà a determinare il raggio e quindi la densità e avere delle indicazioni sulla composizione del pianeta. Questo servirà anche di base per le prossime missioni spaziali che faranno il passo successivo, cioè cercheranno di caratterizzare le atmosfere di questi pianeti e cercare di capire quindi quale molecole ci sono e se ci sono delle forme di vita possibilmente anche. Quindi Cheops è la tappa su una strada più lunga perché poi sarà seguita, se non sbaglio, da Plato e Ariel. Certamente, Ariel è la missione a cui mi riferivo in cui si parla di caratterizzazione delle atmosfere. Sarà lanciata dopo il 2025, nel 2026 e ci permetterà appunto di caratterizzare meglio queste atmosfere e di capire. Cheops aiuterà a determinare quali sono i pianeti che hanno le caratteristiche migliori per essere poi osservati più in dettaglio e hanno più possibilità di riservarci delle sorprese. Parlando di sorprese nello spazio, è facile pensare a forme di vita extraterrestre. Una ricerca in cui anche Cheops si applica con il suo lavoro di caratterizzazione degli esopianeti. Di fatto, cercherà di fornire dati per definire tra le altre cose se si tratti di pianeti rocciosi, gassosi o di ghiaccio e quale sia stata la loro storia. È un pochino come cercare di vedere, guardando con un binocolo un faro, una farfallina notturna che cerca di passare vicino al faro. Ovviamente sarà a cecati. Cheops quindi non verrà il pianeta direttamente, ma vedrà il pianeta quando passa di fronte alla stella, ne oscurerà leggerissimente la luce. Questo ci permette per esempio di misurare con precisione la dimensione del pianeta rispetto alla stella. Inoltre, vedendo gli orari precisi di passaggio del pianeta, anche di capire se questo pianeta ha delle lune intorno o se vi sono altri pianeti nel sistema, ci permetterà quindi di capire molto di più su questi mondi misteriosi e numerosissimi, oramai sappiamo essere numerosissimi, ma anche così diversi dai pianeti del nostro sistema solare. Cerchiamo anche forme, tracce di vita extraterrestre? Ma questa è certamente l'ambizione a lungo termine. Cheops è un satellite che ha uno scopo scientifico ben preciso, molto mirato, quindi non sarà quello che farà questa ricerca, ma certamente questo è un percorso scientifico lungo che richiede tante misure di tipo diverso e quindi Cheops è certamente una tappa verso quello che possiamo definire un pochino come il sacro grale della ricerca esopianetaria, che è proprio quello di capire se siamo soli in questo universo oppure no. Le osservazioni di Cheops saranno affidate a un progetto ottico nato in Italia grazie agli studi delle sedi di Catania e Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, mentre la parte industriale è stata realizzata da Leonardo con Medialario e Thales Selenia Space. C'è stato chiesto di realizzare un telescopio molto compatto, più compatto di quanto sia mai stato fatto perché lo spazio di alloggiamento era piccolo e inoltre dovevamo anche costruire un sistema che avesse pochissima luce diffusa perché sarebbe la prima fonte di inquinamento della misura. Quindi con questi requisiti abbiamo realizzato questo telescopio che è un telescopio di 30 cm di diametro, quindi non particolarmente grande, con una distanza tra lo specchio primario e lo specchio secondario di solo 30 cm, quindi in questo particolarmente compatto. Questo perché poi il telescopio porta un enorme paraluce a bordo proprio per l'abbattimento della luce diffusa. Il progetto è stato realizzato dalla Leonardo in collaborazione con la Medialario e con la Thales Selenia Space. Abbiamo naturalmente lavorato insieme a loro, in una bellissima sinergia, abbiamo costruito questo telescopio, quindi facendo non solo le ottiche ma montandole sul telescopio e facendo tutti i test che sono necessari per poter poi mandare il telescopio nello spazio. A essere orgoglioso di Keops è anche un catanese d'eccezione, Luca Parmitano, comandante della Stazione Spaziale Internazionale che orbitando a 400 km da Terra ha twittato prima del lancio del satellite avvenuto il 18 dicembre. Auguriamo tutto il meglio a Keops nella sua missione di definire le caratteristiche degli esopianeti. Ringrazio il mio amico Davide Gandolfi e l'Osservatorio Astronomico della mia città natale, Catania.